Ciao Sandro, è da tanto che ti cercavo, io sono il Salutatore, i tuoi libri sono fantastici e ti volevo chiedere un saluto a tutti quanti i tuoi fan. Ciao! Grande Sandro, Veronesi, e ho una sorpresa per te, la maniera del Salutatore è versione Italia. Ah, quindi? Ecco qui, grande Sandro, ciao!